Il certificato di unione civile c'è già, non so se si vede, qua, perfetto. L'abbiamo ritirato questa mattina, quindi tutto è bene quel che finisce bene. Francesco e Francesco sono i primi ad essere stati iscritti nel registro delle unioni civili del Comune Aretino. Il loro matrimonio, celebrato in Portogallo il 31 dicembre 2014, è stato trascritto adesso anche al Comune di Arezzo, ma non senza qualche difficoltà. Era stata la coppia a raccontarci il loro percorso a ostacoli verso il riconoscimento della loro unione anche in Italia. La coppia, infatti, con l'entrata in vigore della legge Cirinna, aveva iniziato le pratiche per la trascrizione. Ma Francesco e Francesco si erano ben presto scontrati più volte con la burocrazia italiana, mancanza di moduli, di registri ed infine ritardi su ritardi. Addirittura la coppia si era recata personalmente a Bari per ottenere la traduzione dell'atto di matrimonio necessaria per la trascrizione. E finalmente la giovane coppia, questa mattina, ha visto siglata la loro unione civile. Un'unione che ha fatto da pripista nel Comune di Arezzo, come sottolineano Francesco e Francesco. Questo iter è finito, siamo ufficialmente uniti civilmente, quindi per tutte le coppie che vogliono fare questo procedimento la via l'avete spianata e tutto è bene, finisce bene.